Un grande ringraziamento a tutti voi ospiti che questa sera ci onorate della vostra presenza, a questo punto io passo la parola ai presidenti di club, presidente del Lions Club Castel San Pietro Terme, Nicola Svacchi. Grazie a tutti, buonasera, benvenuti e ancora un grande applauso a tutti voi per la generosità che avete dimostrato per essere qui questa sera. Io nella festa degli auguri interpreto la gratitudine del Lions Club e anche degli amici dei Leo di cui dopo parlerà la presidente Giorgia, per tutti coloro che a vario titolo qui stasera rappresentano plasticamente le tante attività che facciamo e quindi i rapporti con le istituzioni, la presenza del sindaco, dei militari, la presenza della nostra parrocchia. Non sono casuali perché proprio qualche giorno fa abbiamo donato oltre un migliaio di euro di alimenti, pasta e generi alimentari di prima necessità per tutti i bisognosi della carità sparrocchiale e di questo la gratitudine grande a tutti voi con un applauso. Nello stesso modo voglio ringraziare tutti coloro che invece rappresentano i rapporti del nostro club che, come mi chiedeva prima qualcuno, è un'associazione di service e quindi di beneficenza che ha dei rapporti con gli altri club e gli altri enti vicini e quindi gli amici degli altri club, gli amici che rappresentano la zona, gli amici che rappresentano il distretto Lions e Leo. Bene, tanti di noi pensano che questa cena che è a metà di questo anno sociale possa essere solo un'occasione un po' cerimoniosa. In realtà è il giro di boa delle tante attività che i Lions e i Leo svolgono durante l'anno ed è per questo che non le voglio ripercorrere puntualmente ma davvero richiamarle solo per sommi capi ringraziando ciascuno di quei soci che durante l'anno fa tantissimo per la raccolta fondi, per le altre iniziative di sensibilizzazione e le iniziative di beneficenza che portiamo avanti. Ce ne sarebbero tantissime da dire ma il service che abbiamo introdotto quest'anno all'inizio dell'annata con l'associazione Castello insieme per l'autismo a cui abbiamo donato più di 1400 euro proprio a favore dei ragazzi autistici è stato il fiore all'occhiello che ha fatto iniziare quest'annata. Le tante attività sociali e anche legate al corso di primo soccorso che il nostro Iannuzzi, il nostro Bertelli, la nostra Caterina, i medici che fanno parte del nostro Lions Club hanno instaurato quella pubblica assistenza paolina che domani farà un bellissimo spettacolo a cui noi parteciperemo e che nel corso dell'anno organizzerà tante iniziative insieme a noi. Abbiamo già detto anche della Caritas l'attenzione ai giovani e in particolare non solo ma soprattutto i nostri Leo che sono il domani della nostra associazione. Tanti progetti devono ancora venire quelli della seconda parte dell'anno ma siamo sicuri che con la benzina che abbiamo messo nelle tante attività iniziali di questo primo semestre di quest'annata faremo di bene in meglio e voglio menzionare ma forse lo farà ancora meglio di noi la nostra Giorgia il bellissimo concerto che i Leo hanno organizzato raccolta fondi a favore di Bukavu in Congo e ancora la partecipazione del nostro Lions Club a quel progetto del nostro governatore Due Mari di Solidarietà e quindi quella attività a sostegno dei malati oncologici che ha raccolto oltre 40 mila euro e da ultimo proprio questo un altro progetto sempre a sostegno della oncologia in particolare dell'oncologia pediatrica sarà il grande gol che farà il nostro presidente di zona Roberto Bertelli insieme ai nostri soci Michele Andrea e tutti gli altri che organizzeranno iniziative scientifiche e quindi culturali e quindi anche sportive di altissimo spessore proprio per portare avanti anche questi scopi di beneficenza io non volevo fare appunto dei saluti di mera circostanza ma volevo dimostrare con l'eccellenza delle opere la solerzia del lavoro come dice il nostro codice che i ragazzi prima con grande capacità hanno letto le cose che sono state fatte e che intendiamo fare due piccoli segni di questa sera il primo l'intrattenimento di questa serata viene offerto da musica lenta e in particolare dall'amico Luigi Carlo e Moira che fanno attraverso musica lenta hanno pubblicato questo bellissimo cd che questa sera è qui per chi lo vuole potrebbe essere una bellissima iniziativa anche di regalo natalizio diciamo e emozioni condivise e è il loro motto che serve a sostenere i giovani la musica la cultura i disabili ecco per i quali loro tutti loro fanno veramente tanto l'altro segno che è anche quello un po più giocoso e zoioso di questa sera è ovviamente quello della nostra lotteria o come la chiamava Bertelli l'anno scorso la rifa si chiama così presidente e che serve ovviamente a raccogliere tutti quei fondi che abbiamo già anticipato e destinato alla carità sparrocchiale per cui ringrazio il diacono sassatelli che è qui con noi questa sera la presenza plastica di ciascuno di voi da parte di tutte quelle istituzioni di quegli enti fondamentali fondamentali per il sociale e per questo voglio ringraziare le istituzioni presenti e concludendo proprio su questo il nostro sindaco e la presidente dell'azienda dei servizi alla persona vogliono dimostrare che i Lions ci sono per le istituzioni insieme ai Leo per la gente e per il sociale grazie anche alla proloquo e all'ingegnere monte bugnoli che la rappresenta perché le tante iniziative che vengono fatte nel corso degli anni portano molto frutto alla comunità locale questo lo dico sin da adesso a inizio serata è l'augurio di un santissimo buonissimo Natale a ciascuno di voi grazie voglio dare immediatamente la parola alla nostra Giorgia che rappresenta tutti i giovani come presidente perché c'è grazie a tutti a a